Un saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A11 un incidente sta generando core tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Raccomandata prudenza per la presenza di materiale incarreggiata all'uscita a Prato Ovest provenendo da Pisa. In A1 si registra traffico rallentato tra Calenzano e il BV A1 variante in direzione Bologna. Segnalato un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in viaggio verso Roma che sta generando incolonnamenti. Sul raccordo Sino a Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato. Riduzioni in entrambe le carreggiate anche tra Monte Rigioni e Colle Valdelsa e tra San Casciano e l'allacciamento A1, Firenze e Impruneta. Per interventi di RFI che riguardano il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, circolazione sospesa tra Pistoia e Pescia fino al 29 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!